sono partito da sassuolo ho preso l'aereo sono arrivato new york quando ho visto lo skyline di new york ho detto wow sono nel cuore della finanza ce l'ho fatta ma il futuro è stato diverso luca ruini sono onorata e anche un po diciamo sulle spine perché so che il tuo tempo vale veramente tantissimo perché per chi non lo sapesse luca è un consulente finanziario oggi che però gestisce patrimoni di oltre 100 milioni di euro ma soprattutto è stato un trader un operatore di borsa ma non di una borsa qualsiasi della borsa per antonomasia la borsa di wall street vero proprio così senti ma quanti anni avevi quando hai lavorato anzi scusa ti puoi alzare un attimo per favore ma avete visto la sua giacca scusate ecco liman brothers ok ecco ti puoi riaccomodare perdonami giusto perché per chi non è esperto nel mestiere è una giacca con le maniche corte perché si usano le mani in questo modo si compra così si vende alle tasche larghe perché ci si mettono i foglietti con la penna particolarità questa è la giacca da mezza stagione cioè se noti a vedi quella retina per far traspirare aspira d'estate tutta rete ed inverno è tutta chiusa mamma mia vabbè questa io non l'avrei mai immaginato ma quanti anni avevi quando hai lavorato per liman brothers quando sono arrivato a liman brother non ci crederà io ero vecchio avevo 31 anni nel senso che in questo tipo di mestiere è una centrifuga è una centrifuga che ti prende ti coinvolge e quindi in questo momento l'età quel tipo di età io sono arrivato che un senior quindi mi permetteva di andare all'interno di certi uffici preclusi trader junior e questo mi ha fatto la differenza perché mi permetteva di diciamo così andare subito negli uffici quelli che veramente contano però questo è quello che fa la differenza a 31 anni si è vecchio in quel mondo ma ci racconti qualche aneddoto particolare del dietro le quinte della vita che fanno questi maghi della finanza che noi possiamo solo immaginare è effettivamente un po diverso da come uno se ne intende nel senso che noi quando vediamo nei film perché sono i film normalmente questi luoghi sono preclusi alle telecamere neanche i visitatori possono vedere cioè non si può fare nessun tipo di foto quindi noi vediamo normalmente quello che è il discorso delle grida delle urla e quindi vediamo le persone con questo tipo di giacca e casomai diversi colori perché ogni colore identifica un istituto una banca istituzione finanziaria permettimi la battuta il nero per liman brazar forse significava qualcosa comunque sia e quindi in questa ottica qua quando si entra interno di questo mercato è come essere dentro al mercato di quartiere la gente non ci crederà ma le più brutte persone sono lì dentro perché si sgomita si spinge si urla e bisogna arrivare prima degli altri e quindi ci sono persone diciamo così molto fisiche e nello stesso tempo il pavimento è pieno di qualunque cosa carte panini bicchieroni e quindi è tutto diverso da quello che uno si aspetta eh sì davvero ma che cos'è mi spieghi liman brothers sì che cos'è liman brazar è sostanzialmente è stata l'istituto più importante ovvero come qualità nel 2007 pensate fallita nel 2008 nel 2007 è stata premiata come miglior banca al mondo che fine ha fatto liman brazar se avete fallita sì liman brazar è fallita sostanzialmente non sta mai a giudicare naturalmente quello che è successo però naturalmente è successo tutta una serie di traversie che l'hanno fatta fallire senti siccome tu sei stato molto disponibile con noi noi approfittiamo di te e ti abbiamo fatto portare un altro oggetto che ti pregherai di indossare è venuto qui a fare il defile luca ruini pensate che potere che abbiamo avuto obbligare il nostro luca ruini a mostrarci ecco che cos'è una mano questo qua è la riproduzione che la riproduzione che mi è stata donata in giappone quando ho lavorato per un piccolo periodo anche la borsa di tokyo dove quando c'è la quotazione la prima quotazione della della propria azienda in borsa ecco voi sapete o perlomeno potete immaginare i formalismi giapponesi cioè in giappone per mettere il kimono ci vogliono quasi sei ore quindi questa è una riproduzione i tessuti non sono assolutamente questi preziosi l'ambito sono preziosissimi quindi chi va a quotare la propria società si veste con questo tipo di kimono e lì a differenza del pulsante con new york c'è la vera campana che si dà col martelletto per dire è iniziata la quotazione della mia società e si usa proprio questo si va proprio così senti a te lo togli va bene nel frattempo io ti chiedo un'altra cosa che cosa si è disposti a fare per loro è una tentazione fortissima è una tentazione fortissima io vi sono tantissimi ragazzi che sono passati sotto di me che sono disponibili a qualunque cosa qualunque cosa perché la stragrande maggioranza parte col piede sbagliato non so se lo sai però il 99 per cento dei trader fallisce entro il primo anno cioè sostanzialmente l'avidità è veramente la bestia nera per chi fa questo mestiere è un po come dire è un diciamo facendo una similitudine un calciatore che sa che c'è un osservatore sulla tribuna e quindi quando gioca il pallone guarda che cosa potrebbe pensare di lui l'osservatore è preoccupato della prestazione proprio così e quindi non guarda la partita non fa il gioco e tu hai mai avuto questa tentazione di essere preoccupato di più della tua prestazione è assolutamente sì assolutamente si è un travaglio che tutti devono passare un travaglio bruttissimo pesantissimo perché si passa dal momento dell'esertazione al buio alla depressione più profonda e infatti per fare il mio mestiere ci vuole una rettitudine psicologica più che tecnica la gente non lo sa i ragazzi le persone che partono in un mercato nel mio gergo si dice toro c'è un mercato rialzista e se indovinano due tre operazioni pensano di essere dei geni e quindi di aver trovato il sacro grale e quindi essere spendono e quello che guadagnano senza nessun tipo di ritegno in realtà il mercato è volubile e chi raggiunge questo successo è felice secondo te certi hai riscontrato che poi avendo raggiunto successo sono stati felici dipende cosa si intende per successo se noi guardiamo strettamente l'aspetto economico no perché una persona che ha guadagnato tantissimi soldi anche il mio mestiere se non sa come l'ha fatto con quella rettitudine cui accennavo prima li perderà e sicuro e quindi sostanzialmente sperpera e dopo si rischia di essere anche ricattati perché un mestiere un po particolare questo dove le frodi potrebbero essere fatte quindi bisogna fare molta attenzione perché chi viene preso da questo tarlo non è vero che si sia felice perché uno dei soldi senti c'è una data nella tua vita nella vita di tutti tremenda l'undici settembre però tu l'hai vissuto molto da vicino ci vuoi raccontare cosa è successo quel giorno dove eri sì è una data diciamo così che me commuove tantissimo insomma tra virgolette io ero in italia sapete che il mio mestiere si fa con i monitor con i telefoni e quindi non necessariamente bisogna essere a new york fisicamente tenete considerazione che io in quel periodo gestivo 5 miliardi di euro e quindi ero responsabile di una massa di questo tipo è una manovra finanziaria sostanzialmente quindi ero proprio lì pronto per fare questo tipo operazioni dopo di che è successo il finimondo ovvero tutta una serie di cose particolari tra perché mi sono accorto che stava succedendo qualcosa mai successo e la cosa che mi nodo in gola è sentire con un mio collega il viva voce di un telefono ecco in quel momento dove nel mio mestiere non si guarda in nessuno nel senso che si dice cosa vuoi comprare dimmi il prezzo si è fatto non si chiede come sta tua moglie non frega niente nessuno noi dobbiamo comprare o vendere in quel contesto dall'altra parte mi rispondevano in inglese non so se posso dirlo ma era vaffanculo vaffanculo qua c'è il fuoco 600 ragazzi che io avevo conosciuto quando lavoravo a new york o direttamente indirettamente non se ne è salvato uno quindi per me è stato drammatico quel momento ascolta luca tu gestisci il patrimonio di persone ricchissime in paperon dei paperoni ma è vero perché nell'immaginario nostro i ricchi finalmente fanno una vita da sogno non è vero non è vero non è vero non è vero nel senso che adesso dico un luogo comune tra virgolette una voce di corridoio e pensate il mitico rockefeller si dice che lui si alimentasse solo di cibo liquido per le tensioni che aveva nello stomaco quindi per dire qual è la situazione è tutto tutto diverso da quello che ci dicono in tv quindi in qualche modo quello che ci racconti ci conferma quello che ci ha detto papa francesco il denaro è un idolo è un idolo ti chiede il sangue non ti dà la felicità non ti dà la vita assolutamente la felicità è il processo il procedimento quello che mette in atto per poter raggiungere un certo risultato il denaro è un risultato che viene dopo ma non è il mio obiettivo perché l'obiettivo non è mai il denaro e far bene proprio mestiere ecco grazie luca grazie davvero grazie mille grazie 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 grazie